Ciao Pronto? Come chiamate il responsabile? Il responsabile? Il direttore? Chi è qui all'acqua? Chi sei chiesto da chi chiamerò? Ma che stai a dire? Questa è una catena con immagini cambiare E' una catena con immagini cambiare E' una catena con immagini cambiare Ma potete andare da chi è un contratto Ma non c'è da tutti questa roba cinese Ma non c'è più 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 Eh, in braccio Eh, sì, sì Chiamate la mia Tu mi chiamò direttore Perché tu scassi la capa Basta Ma mi chiamò direttore Perché io sono venuto qua Con un abito Per fare la testivone Ma ci ho piaciuto tutta la pelliccetta Ma io voglio parlare con il responsabile Buonasera Per fare le chiamò direttore Non c'è più Per fare le chiamò direttore Per fare le chiamò direttore Mi salta E carried out ma che cazzo 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 c non ti preoccupare mi sono venuto a essere disarci se non sennò non faccio più non faccio più mi metto in cinesi ok? si volevo mettere in cinesi io mi metto in cinesi io la cerco di sconto che si sconto? la pellicetta me l'ha scoppiata la pellicetta sta posta si è una pellicetta in un belè che va? lei parla così che non ti tolgo capito? io sono venuto a quei cani la signorina si è alterata ha chiamato la sicurezza io non ci ho messo le mani della massa io sono venuto a dire che era posta no che poi le ricordi maio testo non è in battuta no e poi state a catturare madrida madrida che ho fatto a 150 persone perché ho fatto la madrina ho fatto con la pellicetta sta bene che numero? che numero? ma che non fai la posta? ma guardate qua non me lo metti qui ha urtito che non c'è mai niente è quella